Un migliaio di persone si sono trovate in piazza Garibaldi a Parma con il fiato sospeso e il naso all'insù e hanno potuto ammirare le evoluzioni in alta quota del mago David appeso per i piedi al gancio di una gru a 25 metri di altezza. Mago a tutto tondo, giocogliere, salti in banco, accativante intrattenitore dei grandi e piccini, nello show che ha preceduto la spettacolare evoluzione in quota, David ha promosso nel modo migliore il weekend programmato da Master for Magic e Comune di Parma. La manifestazione che si svolta la settimana scorsa sarà riproposta il 21 e il 22 marzo e trasformerà piazze e strade della città antica in un grande palcoscenico all'aperto. Grande chiusura infine nella giornata di domenica con la gara di selezione del team Italia per i campionati del mondo di magia 2015 e proclamazione del campione italiano di magia. Insomma, un weekend da segnare sull'agenda.